La Regione del Veneto si è assunta alla competenza della frana di Schiucats. In municipio a Farra dal Pago l'assessore Bottacin, assieme ai rappresentanti di protezione civile e Veneto Strade, ha voluto dunque rassicurare gli abitanti della frazione sulle procedure che verranno intraprese nella gestione dell'emergenza. Alla popolazione coinvolta è ancora interdetto l'accesso al paese per motivi di sicurezza. Le piogge e l'elevata instabilità del movimento non permettono però la formulazione di previsioni precise in merito al comportamento della frana, anche se si spera in una serie di piccoli scarichi controllati. Qualora invece non scendesse da sola, poi si sta studiando un sistema per tirarla giù in qualche maniera in modo tale da mettere in sicurezza le abitazioni che stanno sotto. Oggi abbiamo spiegato anche la procedura per accedere ai fondi per i rimborsi spese, per il fatto che stanno sostenendo delle spese per rimanere fuori casa e anche, e ci auguriamo che ciò non sia necessario, qualora dovessero essere danneggiate le abitazioni, quali sia la strada per avere ristoro dei danni, i finanziamenti ci sono. È chiaro che anche le mie mosse non potevano che prescindere da questa procedura. Adesso che siamo certi che questa è la procedura che verrà seguita, potremmo cercare di essere più vicini a loro e di indirizzarle sulle scelte che devono fare necessariamente. Una frana, come precisa il geologo incaricato Luca Salti, che nel post-Vaia ha censito 500 smottamenti in provincia, dall'evoluzione incerta e con una conformazione atipica. Nel bacino dell'Alpago questo dissesto che si sta verificando adesso è particolarmente anomalo perché è una frana complessa in roccia che si sta sviluppando con volumi importanti di 5-6 mila metri cubi. È una frana in roccia che grava su un paese, che ha avuto e ha delle velocità molto consistenti e quindi è molto molto pericolosa. Il versante è stato indebolito sicuramente dall'alluvione da Baia perché ha dato sicuramente un segno negativo e le ultime piogge hanno dato il colpo finale. Quello che sicuramente sappiamo è che non sarà una cosa di qualche giorno ma neanche di qualche settimana, probabilmente di qualche mese.